Tra le luci della ribalta e il red carpet, tra gli ospiti glamour, addetti lavori e migliaia di visitatori, il lastrecato della piazza del Palazzo del Cinema Lido di Venezia doveva essere progettata con grande attenzione. Esposta all'azione aggressiva della Salsedine e durante il festival, agli ingenti carichi dei mezzi per gli allestimenti, è stato scelto un sistema d'eccellenza per la posa di pavimentazione architettonica in pietra. Titoli di coda su tutti i problemi grazie ai prodotti MAPEI.